Eccoci qua Reykjavik. Dovevo essere su un aereo per andare a Kulusuk in Groenlandia ma una tempesta ha deciso che il mio aereo è stato cancellato. Arrivo in Groenlandia ritardato di un giorno. Andremo prima a Tassilak per organizzare barche e attrezzature varie con tutto il gruppo e faremo vedere Tassilak che è il piccolo centro, il piccolo paesino di 1300 anime della costa groenlandese, è la metropoli della costa est groenlandese. Madre Natura comanda lei, i venti li manda lei e il mare, il cielo e queste cose qua non possiamo controllarli e non possiamo gestirli. Speriamo sia bel tempo domani. Pranzo all'arrivo a Kulusuk. Siamo arrivati in Groenlandia. Buon appetito a tutti! Navigazione difficile e io ho dimenticato il berretto. Tantissimi iceberg, onde, vento. Stiamo avicinando a Tinnit. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Eccoci qua, dove convergono i due ghiacciai di Niali Ga, Groenlandia dell'est, più o meno quasi a 66 gradi nord. pare di essere sulle Alpi e invece, come dimostra il Cermi Ligfjord pieno di iceberg, siamo nell'Artico. Il gruppo arriva e qui facciamo pausa biscottina. Eccoci qua, sul ghiacciaio, dove convergono le due lingue glaciali di Niali Ga, da due zone di accumulo differenti. In mezzo formano un montarozzo di ghiacciaio sovrastato da detriti, perché praticamente le due lingue laterali apportano sia ghiaccio da una parte e dall'altra, che poi si scontra in mezzo, sia detriti, appunto, rocce, pezzi di montagna. Il tutto si accumula e c'è una cresta, una specie di dorsale in mezzo, è una cosa su cui noi camminiamo. Qui c'è un bel buco, molto molto profondo. Dobbiamo stare attenti qui. Eccoci qui, che finalmente riusciamo a guardare questo fiume. È buono per attraversare. Impermeabilizziamoci. Bagnetto nei laghetti di neve sciolta. Ci si sente puliti. Giusto ci si sente puliti. Bagnetto nei laghetti di neve sciolta. 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 Bagnetto nei laghetti. Bagnetto nei laghetti. Bagnetto nei laghi. Ahahahahahahaha aaaah vai! siiii pregato ha 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 fregato eh, to' fregato ah ha ha come è che mi fermo io? Ciao ragazzi, good night Guarda la Lewis viaggia E' pazza Anche loro un po' Gente che arriva, gente che va Appena partiti, non so via la barca di ore, questa vita... Ciao Tinit, ci vediamo l'anno prossimo! Sempre nel cuore Tinit e la sua gente Sempre una lacrima quando si va via da Tinit Sempre! Tutti quei bambini mondiali che ti salutano Giocano con te Ridono sempre La gente che prima ti dice Kadamiu Che vuol dire non mi piaci E poi invece ti abbraccia GIA 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 Anche una balena ci vuole salutare sulla nostra via per Kusuk. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti!